Angelo Duro e Anastasia Cusmina sono i primi concorrenti che si sono esibiti a Ballando con le stelle nella finalissima di ieri. L'attore e la ballerina infatti sono esibiti in un twist a tema di La Famiglia Adams. Willi Carlucci avrebbe commentato con Zazzaroni dopo l'esibizione e avrebbe detto proprio che non conta il percorso fatto ma quello che si fa nell'ultimo impegno. Il giurato di direttore del Collegio Sport avrebbe ammesso di non essere molto colpito dalla prima performance di Angelo Russo e Anastasia Cusmina. Fabio Corino invece non sarebbe lo stesso avviso e avrebbe detto il percorso va valutato e come specialmente nel tuo caso è ripartito da zero e hai fatto tanti grandi progressi. Beh, alla fine Angelo Russo e Anastasia hanno ottenuto, vi ricordo, un punteggio di 38 da parte della giuria di Ballando con le stelle. Servaggio Luccarelli è stata la giuriata più colpita e lo testimonia il 9 che ha assegnato la relativa coppia. Poi Cusmina avrebbe preso le difese di Angelo Russo e non aggiungo altro. Cari saluti a voi, esimi utenti di Youtube, iscrivetevi se vi va, mi raccomando. Ciao da Leandro, alias narratore italiano.